Musica Sabato primo giugno, buongiorno Friuli della redazione di Udinews TV, la nostra rassegna stampa pronta a partire come al solito per sfogliare i quotidiani nazionali e locali, ma c'è spazio anche per il meteo, il traffico e poi lo sport. Partiamo proprio dando un'occhiata a come si sta risvegliando la nostra regione, uno sguardo alle webcam che ci arrivano dal territorio, in questo caso dall'altopiano del Montasio con un cielo in parte nuvoloso con qualche sprazzo di sole come in questo caso, come ci arriva dalle dolomiti friulane di forni di sopra, cielo molto più terzo rispetto alle Alpi Giulie e anche al mare qui siamo a grado. La giornata si preannuncia positiva per i tanti che vorranno recarsi sulle spiagge regionali. Ascoltiamo nel dettaglio che tempo farà da Eleonora Nocent. Il meteo è offerto da... Il meteo è in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, poi variabile, temperature in ulteriore ripresa. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o temporale. Le temperature... Sulla costa 14-17 gradi di minima, 20-23 gradi di massima. In pianura 13-16 gradi di minima, 25-28 gradi di massima. A 1000 metri 14 gradi e a 2000 metri 7 gradi. Una rivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani. Il meteo è stato offerto da... La Proloco Turrida presenta la 38esima edizione della Sagre Dai Cais. Scopri gli appuntamenti di giugno in programma nel Parco sul Tagliamento sulla pagina Facebook ufficiale Sagre Dai Cais. Andiamo in autostrada ora sulla A4. La situazione al momento è tranquilla, come possiamo vedere dal sito infoviaggiando.it con i cantieri per la terza corsia che interessano sempre il tratto tra Palmanova e Portogruaro. Nessun problema particolare nemmeno su A34 e A28. Per quanto riguarda però l'autostrada, vi ricordiamo che da stasera alle 20 sino a domani alle ore 8 del mattino ci sarà la chiusura dell'intero nodo di Palmanova per permettere l'apertura del nuovo viadotto che è stato collaudato proprio in questi giorni. E quindi chiusura per chi è diretto verso Venezia, l'uscita è quella di Udine Sud. Per chi arriva da Trieste e deve spostarsi verso Tarvisio, l'uscita è quella di Palmanova. Per chi arriva da Venezia ed è diretto a Trieste, nessun problema, mentre per chi è diretto a Udine deve uscire e rientrare a Udine Sud. Tutte le informazioni comunque le trovate sul portale infoviaggiando.it. Andiamo sui quotidiani, andiamo sui quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera che apre con il caso Tria che scuote il governo perché c'è il giallo sulla lettera all'Unione Europea di Maio protesta per Italia, il ministro non è opera mia, poi le correzioni. Visco di Banca Italia dice che l'Italia è più povera senza l'Europa, il deficit non deve salire. E poi anche l'editoriale a firma di Daniele Manca, l'illusione di spendere soldi che non si hanno, le questioni legate al mercato e alla fiducia. E poi la bagarre che interessa tutto il paese sulla cannabis, la politica raccontata della cannabis perché dopo la sentenza della Corte di Cassazione c'è grande fermento, c'è la rivolta da parte dei commercianti che hanno investito nell'apertura di questi nuovi negozi. dall'altra c'è Salvini che gioisce per questa decisione, sono contro la droga e per il divertimento sano, ha detto il ministro, ma naturalmente c'è un grosso guaio perché ha aperto questi negozi e c'è anche incertezza per come si evolverà la situazione, ne parleremo poi anche a livello locale con le reazioni dei commercianti del nostro territorio. A centro pagina invece questa foto ci porta un personaggio, c'è l'astronauta che si prepara per la sua seconda missione, stiamo parlando di Luca Parmitano, 42 anni, che torna nello spazio e lassù mi manca solo il mare. e poi ancora le questioni legate ai magistrati e altri due giudici agli incontri con i deputati dopo la vicenda giudiziaria scoppiata con l'ex presidente del CSM Palamara e naturalmente tutte le reazioni che ne sono sorte da parte del mondo dei giudici della magistratura. Andiamo su Repubblica, l'apertura, Italia rischia tutto perché? Perché Visco fotografa la situazione critica dell'economia, servono interventi per rilanciare il PIL, dice, trappella la bozza della lettera all'Unione Europea, c'è lo scontro nuovo sulla maggioranza, poi Conte media e la corregge. Lo spread nel frattempo sale, per la prima volta i titoli di Stato al livello di quelli greci e poi alcune retroscena come la tentazione dei 5 Stelle di staccare la spina al governo, c'è poi la polemica sulle doppie poltrone. Per quanto riguarda Matteo Salvini compare in questa foto con un fucile tra le mani, la parabola di Assisi dal PC alla Lega, un'inchiesta legata al post-voto, un viaggio nelle piccole città dove Salvini ha vinto, ha catturato il bisogno di sicurezza, scrive Sergio Rizzo. Gli esteri con le trattative tra Stati Uniti e Messico, i dazzi buoni e quelli cattivi, a firma di Federico Rampini che racconta di un Donald Trump che apre un nuovo fronte contro l'immigrazione, dalla settimana prossima applicherà dazzi del 5% sulle importazioni del Messico se quel paese non blocca l'afflusso di migranti e profughi verso gli Stati Uniti. CSM, altre toghe riunite con Lotti, vertice al Quirinale sullo scandalo, il mercato delle nomine in magistratura e poi la festa della Repubblica, domani la protesta dei generali, difesa umiliata, disertiamo la parata. Un primo caso storico per quanto riguarda queste celebrazioni. C'è anche un flash di sport, la Roma e il caos nella capitale, il mea culpa di pallotta, ho sbagliato, ne parleremo nella seconda parte. Ci spostiamo ora sulla prima pagina del giornale che scrive siamo senza governo, spread su, pil giù, Italia peggio della Grecia, Banca Italia avverte l'esecutivo sui conti, lega i 5 stelle ai ferricorti, Conte boccia la flat tax e riprendono gli sbarchi, giallo sulla lettera di Tria, via al reddito e quota a 100. E poi a centropagina Conte entra in casa Inter ma gli interisti già si spaccano, anche in questo caso lo sport guadagna le prime pagine dei quotidiani nazionali. E poi, tornando alla politica, l'ultima follia giallo-verde viene così definita da Nicola Porro, ovvero il bonus sulle ristrutturazioni che dovranno pagare gli artigiani. C'è un codicillo micidiale per migliaia di piccole imprese e artigiani, la norma in vigore dal primo di maggio. Ne avevamo parlato proprio per primi noi con una denuncia da parte della CNA partita proprio dal Friuli. Andiamo sul fatto quotidiano ora, a centropagina, Tria e il mistero delle due lettere, naturalmente il format grafico è quello dei classici gialli, giallo a Palazzo Chigi, fuga di notizie sulla replica all'Unione di Maio Laboccia, Conte sin furia, il ministro riscrive prima versione della risposta a Bruxelles, meno deficit con i risparmi del reddito di cittadinanza e quota a 100, i 5 stelle, basta austerità sulla spesa sociale. Il premier vado dai giudici, soffiata rischiosa per i mercati, il testo è un altro e lo modifica in extremis col tesoro. Nel frattempo Salvini tace di taglio alto un anno in giallo verde, gli errori e le cose buone, le pagelle con riforme, nomine e decisioni del Salvimaio, viene definito così il governo in carica. Lotti e Palamara trame per il dopo Pignattone, le carte dell'inchiesta Umbra sulle toghe e i veleni. Lasciamo anche il fatto quotidiano, andiamo sulla stampa, ritroviamo le polemiche legate alla lettera all'Unione Europea di Maio Correggetria, niente tagli alla welfare nella lettera a Bruxelles, allarme di visco, più poveri senza l'Europa, la riforma fiscale sia sostenibile. A centropagina questa foto ci porta a Favignana, la rivolta del tonno contro le quote del governo, un decreto taglia l'attività della tonnara di Favignana, una delle più famose del Mediterraneo, l'addio alla mattanza. E poi altre notizie in breve sulla stampa, Fischer Merkel non ha capito Macron, era la speranza dell'Unione Europea, dopo l'Europa si analizza anche i futuri assetti politici per il vecchio continente. Poi in Brasile la sfilata dei bambini, volete adottarci? E ancora Palamara, io vittima dello scontro tra correnti, bufera sui magistrati, l'intervista al PM. Dalla stampa andiamo su Libero con l'apertura dedicata a Salvini che resta in trincea il suo piano di battaglia. Matteo accelera su Flattac, sicurezza, Rai, Cantieri, sblocca Appalti, 6-5 Stelle non lo seguirà, sarà inevitabile tornare al voto. La Lega correrà con la Meloni e alleati diversi a nord e a sud. Tria promette all'Unione taglia il reddito di cittadinanza, i grillini bloccano tutto. A centro pagina del rio progressista reazionario, chi è il dem che odia i bar. L'editoriale di Vittorio Feltri, i corrotti non sono i politici ma gli uomini. Lasciamo anche la prima di Libero e il manifesto con una foto che ripropone la posa del governo. Un anno fa con il presidente Mattarella, oggi viene definita una luna di fiele perché il governo compie un anno, guerra di tutti contro tutti su debito, flat tax, reddito di cittadinanza e indiscrezioni sulla lettera di risposta di Tria. L'Unione scatenano la bagarre. Di Maio attacca, il ministro smentisce, Banca Italia avverte. Una manovra in deficit sarà rimangiata dallo spread. Di taglio basso, Whirlpool chiude Napoli e scappa ancora un caso di una multinazionale che strappa l'accordo del 2018 e delocalizza licenziati di colpo 430 lavoratori. Andiamo a chiudere con il Sole 24 Ore che dedica l'apertura alle parole del Presidente del Governatore di Banca d'Italia, Visco, che dice che l'Italia è più povera senza l'Europa. Allarme, istazupil. 100 punti di differenziale costano al Paese lo 0,7% in tre anni. Aumenti di spese e tagli all'entrata e siano sostenibili. Banche ancora vulnerabili. Nel primo trimestre la crescita congiunturale dello 0,1%, quella acquisita è pari a zero. La foto a centropagine è quella di Donald Trump e la questione è quella dei Dazi e dei migranti con i mercati a picco dopo le nuove tensioni con il Messico del Presidente degli Stati Uniti. Spread i BTP a 5 anni più rischiosi dei titoli greci. E poi ancora la lettera di risposta all'Unione inviata dopo lo scontro Tria di Maio sui conti pubblici. Lasciamo questa prima parte dedicata ai quotidiani nazionali e andiamo sui quotidiani locali per vedere quali sono i temi dedicati. A casa nostra il Messaggero Veneto apre con le pensioni, tagli per il 40%, il prelievo causato dal blocco delle rivalutazioni riguarda chi riceve più di 1.522 euro al mese, un salasso in arrivo per gli assegni più sostanziosi. Sono questi gli effetti della finanziaria sul Friuli Venezia Giulia. Il decreto dignità fa flop, crollo dei contratti a termine, quasi 4.500 posti di lavoro in meno. I dati sono stati resi noti ieri dall'IRES. E poi ancora le polemiche sul 2 giugno, un ex generale friulano, niente, 2 giugno per protesta. Centro pagina, lo ricordavamo prima, la questione legata alla cannabis, la Cassazione blocca quella light ma in Friuli c'è la fila per imparare a coltivarla. E poi notizie di cronaca che arrivano dalla città di Udine, i topi mangiano le fibre appena installate in città. Festa della matura, la polizia controlla conducenti e bus stanotte la grande festa per i maturandi friulani. I laureati invece ieri in piazza con il lancio dei cappelli. Ancora cronaca con un arresto di un pakistano, perseguitava una ragazza, il papà lo stende e lo fa arrestare. Codroipo deve curarsi negli Stati Uniti, scatta la gara di solidarietà. Entriamo all'interno del quotidiano per vedere alcuni approfondimenti. Proprio il primo è dedicato alla questione canapa con gli agricoltori friulani che cercano di aumentare i terreni in cui viene seminata, è una vecchia cultura che viene riproposta. Porcia, Claudio da Pieve, semina su tre ettari di terreno prima riservati al mais. C'è un interesse crescente e molti sono venuti a chiedermi come si fa. Col diretti dice, occorre tutelare i cittadini senza compromettere lo sviluppo del settore. Questi poi sono un paio di immagini dei prodotti derivati in vendita nei tanti cannabis shop aperti in regione. Con la cannabis trattiamo il dolore cronico e neuropatico, dice il dottor Cappelletto che spiega la differenza e l'utilizzo deciso in ospedale con un piano di cure. Le reazioni dei negozianti cambia poco, ma così si fa terrorismo mediatico, dicono dopo la decisione della Corte di Cassazione. Andiamo ad ascoltare proprio uno di questi commercianti che ieri è stato intervistato dalla nostra Monica Nardini. Da quanto ne so io, una sostanza drogante è una sostanza che ha un valore di THC superiore allo 0,5-0,6. Quindi questi prodotti sono tutti sotto quel valore, quindi tecnicamente dovrebbero essere leciti. Poi vedremo come si esprimono e capire un attimino di più, perché creano sempre più confusione. Invece di dare una linea chiara, pulita. Ci sono titoli anche su varie testate, su online, sul possibile rischio chiusura di negozi come il suo. Quindi quanto è concreto effettivamente questo rischio alla luce di questa sentenza? Oddio, quanto concreto sia non lo so. Quello che sicuramente accadrà, ci sarà una mobilitazione, verranno insomma chiesti pareri da vari legali che stanno seguendo la materia. Loro ci dicono di stare tranquilli che al momento ancora non c'è nulla di chiaro. Però qui, sai, siamo in Italia e quindi quello che oggi va bene magari domani non va più bene. Però ci saranno delle ripercussioni in posti di lavoro, entrate per... Lei ne teme di forti anche nella sua attività? Io, cosa vuoi che ti dica, io temo quello che temiamo tutti, cioè che invece di fare passi avanti se ne facciano indietro. Ma insomma, la storia ci darà ragione, questo è poco ma sicuro. Avverte un clima, per così dire, di caccia alle streghe rispetto a questi prodotti? Sì, assolutamente. Sembra quasi che si voglia distrarre la gente da cose un attimino più importanti. Il ministro Salvini si è espresso anche nelle scorse ore rispetto a questa sentenza. In una trasmissione, cito le sue parole, ha detto un messaggio chiaro, la droga fa male, non ce ne sono di quelle che fanno più male ed altre che fanno meno male. Io do ragione al ministro Salvini che la droga fa male, infatti questa non è una droga. Quindi se vuole combattere la droga lo fa in una maniera diversa. Facciamo un esempio, magari stupido, però è come voler ridurre il problema dell'alcolismo, che è un problema piuttosto importante soprattutto in Italia, andando a vietare la birra analcolica. Cioè è la stessa identica cosa. E con la cannabis, a base di cannabis, stanno crescendo anche le tipologie di prodotti, dai maccheroni all'olio di semi e poi la cosmesi per viso e corpo. Tra gli scaffali dei negozi che vendono questi prodotti, le infiorescenze, come bere una birra analcolica, spiegano per far capire che la sostanza è minima. Insomma avete sentito un po' le parole che ci ha rilasciato uno dei commercianti udinese su questa vicenda. Andiamo avanti con le pagine interne del Messaggero Veneto. Veniamo ai dati relativi all'economia nella nostra regione con gli scatti dei tagli alle pensioni, la sforbiciata per 150 mila persone interessate, il 40% dei beneficiari con assegni mensili superiori ai 1.522 euro lordi. Via anche al contributo di solidarietà, un salasso per chi prende più di 100 mila euro. Queste sono anche le cifre per quanto riguarda la nostra regione con i conguagli, le pensioni d'oro che sono circa 2.500, di 356 mila con reddito superiore di 100 mila e le pensioni sono 500 in questo caso. Per quanto riguarda invece le assunzioni, sono in calo il flop del decreto dignità, i contratti a termine a tempo indeterminato e in apprendistato non compensano la flessione di quelli a termine, meno 4.445 posti. L'indagine dell'Ire sul primo trimestre dell'anno frena l'impiego degli ex interinali, questi sono appunto i dati resi noti ieri. Ancora con le pagine dedicate alla politica regionale, si parla di sanità e i sindacati ritornano in sorgere sulle carenze di organi, il vicepresidente Riccardi convoca un vertice sulla Sores, la sala operativa di Palmanova, CGL, Cislo Will e Fialz attaccano, personale e attrezzature sono insufficienti. E poi il caso Spitaleri con il centrodestra che aveva chiesto una mozione di censura nei confronti del membro della commissione paritetica, lui si difende e scrive a Zanin dopo gli attacchi, nessun aiuto della Giunta alla commissione. Ancora economia per quanto riguarda il settore lattiero caseario, c'è Venchiaredo che rafforza il capitale, grazie a Friuli, alla finanziaria regionale, ha approvato infatti un prestito obbligazionario da un milione e mezzo con il presidente dell'azienda Driussi che dice così consolidiamo il nostro processo di crescita. Ricordiamo che proprio Venchiaredo di recente ha visto aumentare la percentuale di proprietà di Granarola all'interno della società di Sesto a Reghena. Con Fili Friuli ieri e l'assemblea degli azionisti porta oltre 100 milioni le garanzie in essere all'assemblea presente dell'assessore regionale Bini. C'è poi l'intervista di Piercarlo Fiumano oggi a una manager molto particolare, Mariangela Marseglia, che è la country manager di Amazon per l'Italia e la Spagna. Perché? Perché, ne abbiamo parlato più volte, sta per aprire il nuovo deposito del colosso a Fiume Veneto che ha fatto tanto discutere. E in questa intervista la manager dice Amazon è favorevole alla concorrenza e a regole condivise con gli altri operatori. Cosa pensa dell'Italia sul piano delle infrastrutture e della logistica? Per raggiungere Venezia e da Trieste si impiegano oltre due ore di treno, un pacco Amazon viaggia più veloce. La risposta, le infrastrutture sono un asset importante per garantire alle imprese di sviluppare la propria attività commerciale raggiungendo in modo efficace i clienti. Per questo nel nostro piccolo stiamo continuando a investire nella rete logistica e siamo sicuri che il sistema paese continui a puntare sulle infrastrutture qual è asset strategico di sviluppo. Andiamo ad aprire le pagine di Udine e Città con in primo piano la questione dei topi che stanno mangiando i tubi della fibra ottica appena stesi. L'impresa incaricata della posa è intervenuta già in 10 punti. L'assessore spiega che saranno intensificate le deratizzazioni aumentano le segnalazioni, infatti, di cittadini non soltanto nelle periferie. E poi ancora polemiche su Via Aquilei e i lavori che devono partire. I commercianti potevano intervenire in assemblea replica all'amministrazione comunale dopo l'attacco dell'associazione di categoria che si è detta contraria a come verranno impostati i lavori di risistemazione della strada. L'incontro pubblico, ha detto Michelini, è stato voluto proprio per discutere di possibili criticità. Ma in città ieri sera c'era a fermento tanti giovani pronti a partire per le feste di matura. Feste controllate dalla polizia, non solo tra i ragazzi ma anche per i mezzi che li trasportavano, ovvero i bus e il ritrovo in centro. Poi la partenza verso i ristoranti e le discoteche. L'obiettivo è quello di divertirsi e ballare fino al mattino. E vedete proprio nelle immagini il raduno in Piazza Libertà, ai controlli della polizia, agli autisti, delle corriere che li trasportavano. Ieri per noi tra loro c'era Luciano e Delfonso. Andiamo ad ascoltare le voci dei ragazzi. Questa sera dove festeggierate? Qual è il programma e che cosa ti aspetti? Questa sera andiamo prima a festeggiare a Castello di Butro con i nostri professori e poi ci sposteremo al Palmariva per festeggiare tutta la provincia di Udine tutti insieme. Cosa dovrebbe succedere per rendere indimenticabile questa serata? Tutto. Dove succedere tutto e bisogna dimenticarsi degli esami e basta. Dove andate stasera di bello? Stasera andiamo a cena al Molino e poi continuiamo la serata al Palmariva. Cosa ti aspetti da questa serata? Da questa serata divertimento soprattutto e comunque stare con gli amici e con i compagni di sempre. Al Molino. Al Molino. Al Molino dove? Non lo so, cammino tagliamento. E dopo la serata dove finisce? Al Palmariva e poi al Lignano. Questo cartellone a chi è dedicato e perché? È dedicato alla nostra ex docente di scienze che verrà a trovarci alla cena, l'abbiamo invitata anche se non è stata nostra insegnante perché appunto l'abbiamo avuta per quattro anni ed è stata comunque molto una docente fondamentale per il nostro studio e allora le abbiamo dedicato questo cartellone con tutte le frasi divertenti dette nei quattro anni. E questa mattina dunque per loro il rientro dopo una lunga notte e poi via rituffarsi sui libri per gli esami. Continuiamo a sfogliare le pagine di Cronaca del Messaggero per un fatto che ha visto protagonista una ragazzina di 15 anni perseguitata da un pakistano, è stato arrestato grazie al papà. La studentessa infatti ha chiamato il genitore che ha bloccato lo straniero, un pakistano già finito in cella per tentata rapina e atteso poi l'arrivo della polizia. Lasciamo le pagine del Messaggero, andiamo sul gazzettino, l'apertura del quotidiano nel dorso nazionale. C'è ancora il caso dell'Unione che fa tremare il governo, la lettera di Tria a Bruxelles che fa insorgere Di Maio e Conte. Il reddito non si tocca, scatta la retromarcia di Taglio Alto invece. Un fatto di Cronaca che arriva nel Trevigiano proprio in occasione di queste giornate che vedono la zona protagonista del passaggio del Giro d'Italia. Cerca di sedare una rissa ammazzato di botte, due fratelli sono stati fermati, non l'abbiamo ucciso. È successo in un locale della provincia che stava ospitando uno degli eventi collaterali al passaggio della TAP. A proposito del Giro, il Veneto è un trionfo con la grande folla ieri a San Boldo e oggi ancora una tappa che vedrà protagonisti gli scalatori. Sul fronte pedemontana invece dietro fronte di costa opera legittima. Andiamo a vedere il dorso friulano del gazzettino con l'apertura dedicata al fatto di Cronaca con il pakistano arrestato dopo aver molestato una ragazzina accusato di aver seguito e minacciato una minorenna è stato fermato dagli agenti delle volanti. I pendolari battono i pugni, basta doppione al tavolo l'idea di una metropolitana leggera su Udine, Vat. E poi su Mercatone 1 i parlamentari chiedono chiarezza dopo le notizie poco edificanti sul futuro del gruppo e dei lavoratori soprattutto. Ieri invece c'era uno degli eventi più sentiti di conoscenza in festa perché c'erano gli incontri e con il job breakfast tanti giovani a portare il loro curriculum a cercare un posto di lavoro, brioche colloquio in 250 in piazza. L'apertura della parte sportiva ci riporta a Giampiero Pinzi e i suoi mesi da tecnico in questa foto con il paron Gianpaolo Pozzo, l'ex centrocampista bianconero è rimasto e rimarrà uno dei beniamini dei tifosi e ora sta lavorando e ha lavorato per dare una grossa mano a Igor Tudor per portare a termine il percorso salvezza dei bianconeri. Andiamo all'interno poi per approfondire alcune notizie che ci arrivano dal gazzettino. Sul fronte sanità c'è lo psicologo che potrà diventare primario, Udina, Pripisten, Friuli Venezia Giulia. Dopo la difida dell'ordine del sindacato di categoria, l'azienda frulana ha fatto dietro fronte e riaperto i termini. Abbiamo letto un passaggio dei pendolari che battono i pugni sul tavolo e dicono basta doppioni, bus cedano il passo ai treni. Le richieste dei pendolari al tavolo con la regione e con le ferrovie, una decina di corse da cancellare. Udine Vatt, l'idea metropolitana leggera. Andiamo poi nelle pagine dedicate alla destra tagliamento con il Cro di Aviano, terapia Protoni e direttore Fantasma. Un nuovo allarme per il centro. Il trasferimento di Possamai all'azienda 5 potrebbe rallentare i tempi del bando. Preoccupa anche il super ritardo sulla nomina del responsabile scientifico. A proposito di destra tagliamento, l'apertura del dorso pordenonese del messaggero Veneto con il mercato che trasloca la piazza della Motta. Le bancarelle andranno in piazza Risorgimento. La rivoluzione scatterà a fine settembre. Dopo Pordenone legge il terminal dei bus sarà spostato in via Santa Caterina. Il 7 giugno, nel frattempo, Campagna Amica aprirà nella sede di via Roma. Per quanto riguarda poi le altre notizie da Porrenone città, abbiamo lo spunto sui cantieri senza fine in via Capuccini. Servono altri due mesi. L'impresa ha chiesto e ottenuto la seconda proroga. Ritardi dovuti al maltempo e al passaggio delle auto. Andiamo sulle pagine isontine del messaggero. L'apertura su Gorizia. La finestra sull'Europa della Transalpina si apre alle realtà di Gorizia e Nova Gorizia. L'ufficio del team di lavoro per la candidatura a Capitale della Cultura 2025 attende le proposte di singoli e associazioni. L'assessore Oreti dice la cosa importante è che i progetti partano dai territori. Andiamo ora sulle prime pagine del piccolo. C'è il sindaco di Trieste, di Piazza, che tratta e resiste al carroccio Pigliatuta, Battosta. Per Forza Italia a Trieste il rimpasto di giunta. Federica avvisa i leghisti. Governo in bilico. Centrodestra, equilibri poste europee nella nostra regione. E poi ancora l'occupazione. Contratte termine in calo, ma crescono quelli fissi. La cronaca da Trieste. Il sottopassaggio della stazione è ridotto a bivacco e vicini. Fortuna e poi ancora Costa Curta che lancia l'Europeo Under 21. Sarà uno show al ROC con l'intervista di Guido Barella. L'andremo ad approfondire poi nella seconda parte dedicata allo sport. Rimaniamo sui temi politici dal comune di Trieste con il rimpasto post-voto. La lega che scippa a Forza Italia le deleghe di peso e di piazza che resiste. A Trieste la prima prova di forza del carroccio dopo l'exploat. Bilancio al vice sindaco, il commercio è la fedelissima di Max, inteso Fedriga. La lista del primo cittadino blinda gli assessori e ottiene la presidenza dell'Aula. In regione invece Fedriga chiama a raccolta la squadra al governo in bilico. State tutti pronti. L'ipotesi delle elezioni anticipate in ottobre è un nuovo sforzo elettorale in vista. Tempi più lunghi per la riforma delle autonomie. Vedete anche i protagonisti di queste trattative. Zanin, Bini e Saro. E Fedriga con il suo capogruppo Bordin. Vedremo dunque come evolverà la situazione anche nella nostra regione. Andiamo a vedere anche un'occhiata al piccolo nell'edizione esontina. Cambiano le notizie di taglio alto. Da un lato l'apertura, come vi annunciavamo prima, della cavalcavia a Palmanova per la terza corsia. E poi un incidente a Gorizia, ruota all'aria dopo una curva, ferito un anziano conducente dell'auto, estratto dall'abitacolo dai pompieri. Ci fermiamo qui per questa prima parte e tra poco di nuovo assieme per lo sport. Grazie.